Montagna Pistoiese, 11 aprile 2020, siamo a Maresca, stamani veramente una vergogna assoluta a Maresca, c'è il piano di macchine, Prato, Milano, ho chiamato i carabinieri, purtroppo mi hanno confermato e non hanno fatto i posti di blocco, hanno fatto dei controlli a tampone, hanno sanzionato già parecchia gente, io avevo scritto al sindaco, l'avevo detto alle conferenze di Capiglupo diversi giorni fa su Skype, poi ho scritto al prefetto, non è stato fatto niente, denuncerò tutti, questa è una follia assoluta, ho chiesto ai carabinieri di intervenire immediatamente per venire a Maresca e prendere tutti i numeri di targa e sanzionare chi non ci doveva stare, questa è pura follia, io al sindaco gli avevo detto, ce ne risponderà, grazie.